Ora abbiamo la seconda in la classe turistica, che è una bata chiamata Liglia, Gio Presti, over there, Liglia, e è la bata di Electric Motor News, che è un sito web, dove puoi trovare tutto sull'autorità elettrica. La seconda classificata nella categoria turistica è la barca Liglia, di Giuseppe Prestini e Marcelo Panin. Nonostante le disavventure avute durante la gara sono riusciti ad arrivare secondi, congratulazioni. Il pannello che hanno perso andando a rimbalzare contro il pontile galleggiante è stato recuperato dai suoi. Il pannello di solare ha perduto oggi, è stato riuscita, è stato riuscita, è stato riuscita dai suoi. Sono riusciti. Grazie. Grazie.